Io sto guardando sul mio smartphone la campagna di Absolute Civil Love ed è una campagna che veramente avrei voluto firmare io e creare. È una campagna che non solo collega un brand al mondo, ma soprattutto collega un brand a un purpose e a cuore delle persone perché è la storia di Tarek e Anastasia, due ragazzi libanesi. Dovete sapere che in Libano purtroppo ancora non ci si può sposare in maniera civile, quindi è unicamente in chiave religiosa. Il problema è che se tu sei di due religioni diverse, Tarek è musulmano mentre Anastasia è cristiana, non ti puoi sposare. E allora cosa ha fatto Absolute? ha utilizzato questo purpose, questa necessità per far incontrare l'amore e quindi ha sposato Tarek e Anastasia in acque internazionali. Ecco, questa è una di quelle campagne che veramente mi toccano l'anima e toccano l'anima di tutti i nostri consumatori ma che veramente avrei voluto a tutti i costi firmare. E anzi, mi auguro nel futuro di poter fare qualcosa di questo genere. Grazie a tutti.